La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo con la categoria Finance e andiamo a premiare l'avvocato dell'anno Capital Market. Il premio va all'avvocato Gianluigi Serafini, eccolo qui LS Lexius in acta, che deve fare il giro, deve risalire sul palco, dopo aver chiacchierato con noi poco fa. E intanto andiamo a leggere la motivazione. Professionista, versatile, dalle doti che prescindono dall'aspetto puramente legale, capace di affancare il cliente con una visione acuta e preziosa. Profondo conoscitore del Capital Market, nel corso degli anni ha seguito numerose quotazioni di successo e ha supportato le piccole e medie imprese ad avvicinarsi ai mercati finanziari, divenendo un punto di riferimento del panorama legale italiano. Avvocato Gianluigi Serafini, complimenti e bentornato. Un passo più avanti avvocato. Faccia un passo più avanti che è meglio. Ecco qui. Avvocato dell'anno Capital Market, complimenti. Complimenti. Siamo in compagnia dell'avvocato Gianluigi Serafini, partner di LS Lexius Sinatta, che oggi ci parla di family business, una leva importantissima per l'economia italiana. Avvocato, lei da due anni dirige presso la Bologna Business School l'unico master italiano sulla governance dell'impresa di famiglia. Come mai avete scelto di approfondire questo elemento formativo? La scelta è nata dalla necessità di fare una riflessione concreta sul mondo delle imprese di famiglia, che sono circa il 90% delle imprese italiane, anche di grandi dimensioni. La governance in realtà è l'elemento essenziale per garantire la continuità nel tempo di queste imprese. Quindi era necessario avere un punto dove l'accademia e anche la practice si incontrassero e facessero formazione. Formazione agli imprenditori, ai figli degli imprenditori e anche ai consulenti degli imprenditori. Perché bisogna vedere nell'impresa di famiglia un elemento che deve dare la continuità nel tempo alla storia, altrimenti andiamo sempre più a distruggere un patrimonio nazionale della nostra capacità produttiva. In un paese che invecchia con una curva demografica preoccupante, anche gli imprenditori si avvicinano al passaggio generazionale. Come affrontate questo tema esistenziale per la vita degli imprenditori? La realtà è che io mi occupo di corporate da 40 anni. Ho imparato che affrontare l'impresa di famiglia e il passaggio generazionale di legale è un elemento fondamentale, ma è non commodity. Bisogna essere degli psicologi, bisogna essere qualcuno che riesce a far capire all'imprenditore che la vita può in qualche modo terminare, che il suo gioiello in qualche modo deve essere tramandato a qualcuno e lo va programmato nel tempo. Quindi il vero problema è avere un progetto che consenta o di individuare all'interno della famiglia, colui che può continuare l'attività di impresa, o avere la possibilità di fare una managerializzazione dell'impresa. Troppe volte queste cose avvengono troppo tardi perché l'imprenditore soffre di un complesso di edipo, non si vorrebbe mai sottrarre dal gioiello che ha creato. Figlio tuo è sempre il più bello del mondo e l'impresa fa la stessa fine. Questo fa sì che la mortalità delle imprese che sono nate ad esempio negli anni 60 dopo il boom economico sia estremamente forte o che buona parte della nostra imprenditoria finisca in mani estere. Passare e programmare nel tempo il passaggio generazionale è uno degli elementi fondamentali e quindi la missione, mi ricollego anche con la parte educativa di Bologna Business School, è proprio quella di far sì che gli imprenditori programmino nel tempo questa parte della vita aziendale per garantire a favore di tutti i stakeholders che sono anche i lavoratori, che sono una componente essenziale della vita dell'impresa e del suo valore, la possibilità di poter proseguire nella loro attività. Avvocato, lei è un esperto di mercato di capitali e infatti questa sera ha ricevuto per la seconda volta consecutiva l'Award delle Fonti, quale è il migliore avvocato dell'anno Capital Market. Come coniuga questa sua specializzazione con il mondo del family business? È una domanda che mi fanno spesso perché parlando di mercato di capitali tutti pensano al grande sistema borsistico, al grande sistema dei fondi. In realtà in Italia abbiamo prodotto un mercato molto efficiente, l'ex mercato AIM e oggi AGM che è dedicato alla piccola media impresa. Questa struttura di mercato è un mercato molto efficiente per garantire la continuità aziendale. L'imprenditore che in qualche modo vuole fare un riassetto all'interno della propria famiglia, non vuole vendere ad un fondo di investimento ma vuole garantire la continuità, può avere accesso tramite il sistema della quotazione ad una modalità di garantire da un lato la continuità dell'impresa e la capacità di fare investimenti, dall'altro anche di sistemare le cose della propria famiglia. Quindi c'è magari un figlio che è interessato a continuare, un altro componente della famiglia che non vuole continuare l'azienda ma viene monetizzato perché le azioni sono azioni che possono andare sul mercato e quindi si riesce tramite lo strumento della quotazione ad avere un elemento molto efficace per garantire un passaggio generazionale e anche il riassetto patrimoniale all'interno della governance più complessiva che è l'armonia della composizione familiare. Perché ricordiamoci sempre che quando parliamo di governance dell'impresa di famiglia, quasi tutti gli operatori pensano alla governance dell'azienda, la governance dell'impresa di famiglia è sopra, cioè la governance della famiglia, cioè bisogna sapere l'azionista, cioè il gruppo familiare azionista quali sono le regole di comportamento che deve avere e la prima regola di comportamento che deve avere è una carta dei valori, sapere che cosa condividono per il bene dell'azienda. Il mondo dell'impresa di famiglia come sta affrontando le tematiche ISG? In modo variegato ma in ritardo, ma questo è un problema di molta imprenditoria italiana, nel senso che gli ISG se ne parla molto, vengono ancora considerati un momento quasi obbligatorio, l'ennesima adempimento burocratico da fare, non c'è la concezione culturale ancora che sia uno strumento di valorizzazione dell'azienda proprio per far sì che questa azienda si adegui tempestivamente a quelli che saranno gli elementi essenziali per continuare ancora una volta, ripeto per l'ennesima volta, continuare nel tempo la progressione. Calcoli che la mortalità delle imprese negli anni 60, dopo 20 anni, nei primi 10 anni moriva circa il 60, la continuità delle imprese era del 62-63%, oggi la continuità delle imprese dopo 10 anni è del 12%. Gli ISG non vuol dire solo sostenibilità, ambiente, governance, vuol dire programmare nel tempo fra i fattori di rischio tutti quegli elementi che possono mettere a rischio la continuità aziendale. A livello di impresa di famiglia questo tema è un tema che deve in qualche modo ancora essere metabolizzato, perlomeno nelle medie, nelle grandi imprese ovviamente questo tema è già un'attualità ed è una componente reale della vita dell'impresa.